Oggi parliamo di Freud, di questo pensatore del Novecento che per lungo tempo è stato tenuto ai margini della filosofia e ha dovuto guadagnarsi il ruolo di filosofo nell'albero dei filosofi del Novecento, nel novero dei filosofi del Novecento. Questo è accaduto perché fondamentalmente Freud non è un filosofo, è fondatore della psicanalisi e gran parte della sua produzione non verte su questioni filosofiche, ciò nonostante alcune delle sue riflessioni hanno profonde ricadute sulla filosofia del Novecento e anzi possiamo affermare che in realtà alcune delle descrizioni di Freud si inseriscono insieme con riflessioni di Marx, insieme con riflessioni di Nietzsche, in quel grande processo di decostruzione della filosofia occidentale che è, come dire, l'aspetto più interessante della filosofia del Novecento. Ora per quanto riguarda alcuni aspetti di natura biografica, Freud era di origini ebraiche, era originario della Moravia, ma il padre scelse di trasferirsi a Vienna e quindi Freud crebbe in questa grande capitale decadente dell'impero austro-ungarico e compì studi in ambito medico, tant'è che fondamentalmente all'inizio lui dedicò la propria attenzione all'istologia del sistema nervoso. Però ebbe modo, grazie alla collaborazione con Charcot, di recarsi in Francia e lì apprendere la tecnica dell'ipnosi che Charcot utilizzava nei confronti di pazienti affetti da isteria. Nel tempo in cui viveva Freud, questo disturbo, l'isteria da alcuni medici era considerata direttamente una non malattia e invece secondo altri non poteva esservi malattia che non avesse un riscontro fisiologico e pertanto alcuni erano convinti che ci fosse nel corpo umano una lesione non ancora individuata o difficilmente individuabile e che quindi soltanto quella lesione poteva essere curata. Tra l'altro già il termine isteria, dal momento che in greco eusteros significa utero, fondamentalmente si riteneva anche perché gran parte dei pazienti colpiti da isteria erano donne, che fosse appunto un disturbo legato all'utero. Ora in realtà Freud appoggiandosi anche al lavoro di Charcot inizia a ritenere che possano esserci disturbi nervosi che non siano eminentemente legati a disturbi di carattere fisiologico o fisico. In questo Freud che lasciata a Parigi ritorna a Vienna e inizia a lavorare in ospedale e trova un poco di appoggio da parte di Breuer, il quale così come Charcot utilizzava il metodo dell'ipnosi, la tecnica dell'ipnosi. Ora gran parte dell'accademia invece riteneva che la tecnica dell'ipnosi fosse fondamentalmente tra l'inutile e il folcloristico e quindi in un primo tempo Freud è completamente osteggiato ma anche deriso dalla comunità accademica. Comunque Freud ha un modo di constatare i pregi e i difetti dell'ipnosi e si rende conto che effettivamente l'utilizzo dell'ipnosi dava come dire un sollievo momentaneo ai pazienti ma poi di fatto non risolveva i problemi. Allora lui inizia a credere che dietro l'isteria ci sia sì una lesione ma non una lesione che sia visibile diciamo con gli strumenti della medicina ma una lesione o un trauma di natura psichica. Però si rende anche conto che con l'ipnosi in realtà il terapeuta diventa consapevole del trauma che il paziente può aver subito ma finita l'ipnosi il paziente non è affatto consapevole quindi torna ad avere gli stessi comportamenti che aveva prima della terapia ipnotica. A questo punto Freud si rende conto che non va bene l'ipnosi che tra l'altro lui aveva avuto modo di studiare tramite una paziente che è passata alla storia con uno pseudonimo con il nome di Anna O riesce a rendersi conto di quanto traumi vissuti ma di cui ci sembrano ricordarci abbiano un peso nell'azione e quindi inizia già in questa fase della propria carriera siamo agli esordi a capire il meccanismo della rimozione. Dopodiché anche in seguito alla morte del padre Freud inizia una propria autoanalisi e in grazia di questa autoanalisi è in grado di superare alcune delle difficoltà che aveva riscontrato rispetto al metodo ipnotico e quindi passa al metodo delle libere associazioni. Lui si rende conto del fatto che è necessario per poter comprendere il comportamento delle persone, questo è il primo tema di importanza filosofica, che non tutto ciò che una persona fa è riconducibile alla coscienza. Qui lui rompe con un paradigma che era tipico di tutta la filosofia occidentale, ossia da Platone in poi non vi era dubbio nel fatto che ogni comportamento umano sia comunque interamente razionalizzabile o comunque comprensibile razionalmente. Ora in realtà questo paradigma filosofico noi sappiamo che nasce con Socrate, nasce con Socrate con l'intellettualismo etico, quindi con la convinzione che ogni azione umana sia razionale o razionalizzabile, tant'è che secondo Socrate ogni qualvolta si compie qualche azione negativa è perché si ignora teoricamente il bene e invece una volta resedotto del bene qualsiasi individuo è in grado di metterlo in pratica. Già Platone si era reso conto invece del fatto che nella giro umano c'è una serie di comportamenti che non sono riconducibili alla ragione, c'è una serie di comportamenti irrazionali. Ma a suo modo di vedere questa caratterizzazione della psuche, che noi traduciamo un'anima, questa caratterizzazione della psuche è descrivibile come una sorta di bigalata in cui la biga con il suo arie che i cavalli rappresenta l'essere umano e l'aurica rappresenta la ragione e i due cavalli rappresentano l'uno l'anima concubiscibile, quindi l'anima desiderante, l'anima che per usare termini freudiani ha anche delle pulsioni che deve soddisfare tramite il corpo e poi c'è l'anima irascibile, cioè l'anima i cui sentimenti appoggiano le scelte della ragione. Quindi Platone per primo si era reso conto del fatto che non c'è una corrispondenza assoluta fra teoria e prassi, però comunque aveva lasciato alla psuche la possibilità di essere quantomeno guida di ogni comportamento umano, comunque essere presente alla guida del comportamento umano. Cioè anche per Platone non esisteva alcun aspetto della giro umano che non fosse passibile di razionalizzazione o che comunque non fosse appunto spiegabile. Aristotele con la fronesis più o meno mantiene la stessa posizione, ossia anche Aristotele ovviamente si rende conto del fatto che c'è un'assoluta discrepanza fra conoscenza teorica, quindi fra Sofia e poi l'agir bene praticamente, però ritiene che questa discrepanza sia possibile accolmarsi grazie all'intervento di questa virtù a cavallo fra etica e dianoetica che è la fronesis che noi più o meno traduciamo saggezza, da non confondere però con soffrosione, che è comunque però una virtù che se vediamo bene è deliberativa, è una virtù che comunque si consegue, si raggiunge grazie all'esperienza, grazie all'abitudine quindi è l'exis, ma una virtù che comunque è razionalizzabile o comunque è esprimibile in termini logici. All'apice ovviamente di questo percorso che attribuisce un ruolo preminente alla ragione quindi il soggetto come ragione ovviamente c'è Cartesio e anzi Cartesio è il vero obiettivo polemico di Freud se andiamo a ben vedere perché secondo Cartesio appunto l'essere, l'uomo, io, sono in quanto penso quindi non c'è assolutamente alcuna distinzione fra la rest cogitans e il soggetto anzi il problema sia nel comprendere in che rapporto questa sostanza pensante sta col corpo questa sostanza estesa. Ecco invece secondo Freud assolutamente c'è una regione enorme della psiche che è l'inconscio e questo inconscio quindi qualcosa di cui il soggetto non è cosciente rispetto a se stesso questo inconscio è protagonista e responsabile di tutta una serie di comportamenti che qualsiasi individuo ha anche se l'individuo non ne è cosciente. Anzi la parte conscia dell'individuo è, stando alla prima topica di Freud, è veramente la punta di un iceberg perché gran parte delle azioni che l'uomo compie dipendono da una serie di considerazioni inconsce o di ricordi rimossi che spingono il soggetto a fare qualcosa di cui non è assolutamente consapevole e in questo senso aiutano a comprendere questa condizione umana tipica di tutti, le cosiddette distrazioni o i lapsus, quindi tutti quei comportamenti che ci permettono di comprendere come una serie di atti mancati o reali da noi compiuti dipendono in realtà da tutta una serie di vissuti che noi abbiamo incamerato ma che per noi è troppo doloroso tenere a memoria e quindi li abbiamo rimossi. Rimuovere però non significa dimenticare, rimuovere consapevole significa non essere coscienti di qualcosa ma che comunque è operante dentro di noi e in certo qual modo determina le nostre azioni. La prima descrizione che Freud fa dell'inconscio è una vera e propria topica, nel senso che va a fare una vera e propria mappa di quella che è la psicomana sostenendo che c'è appunto una piccola parte che è il conscio, poi c'è il preconscio, cioè quella serie di ricordi che io non ho non ho davanti a me mentre agisco ma che comunque posso richiamare alla memoria tranquillamente, sono capace di richiamare alla memoria e poi c'è il mare magnum dell'inconscio che è lì presente, operante ma del quale io appunto non sono consapevole. Poi Freud elaborerà una seconda descrizione che è detta seconda topica anche se in realtà lascia da parte questa distinzione dei luoghi, topos in grego vuol dire luogo, questa distinzione nei luoghi e quindi è una descrizione come dire funzionale e è passata alla storia come seconda topica.